Questo è Caverna di Platone! Questo è... si è lui! Questo è Caverna Rewind! Come sempre... capiamo. Cosa ne pensi dell'edizione colossal di AOT? Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Ma com'è possibile? Ogni foto comincia una live. E sta coccorrono che ha domande. Cave che pensi di questo? Cave che pensi di quello? Dici uno che ha domande. Cave? Ma come stai? Cave? Tu puoi straccare 100€? No. Sempre? Perché non lo compri tu e lo fai vedere in live? E ma poi puoi accattare tutto il mondo. Puoi fare avvio e non fa abbonato nemmeno. Ma ci sono andato a voto 800 abbonati. E tutte le ore ne chiesto. Molto... molto... elitario. Cave prenotato l'artbook di AOT. Dopo tre giorni spasmodici. No, non è vero. Siamo al 6 quindi... eh no, sì, tre giorni. Perché tutto il 4, 5 e 6. L'ho prenotato stanotte. Quindi sì, dai, due giorni è qualcosa. Sono riuscito a prenotarlo perché c'era il posizionamento del prodotto su Amazon Japan. Praticamente il tempo di qualche ora non era più disponibile da comprare per l'Italia. E quindi ho detto... Ho valutato di prenderlo su CD Japan. Però CD Japan mi chiedeva veramente un sacco di soldi. Mi chiedeva 200€. Perché tasse e spedizione si arrivava a una cifra assurda. Comunque sono stato giorni a cercare e vedere il prodotto se su Amazon Japan sarebbe stato disponibile. Ma io che refresciavo come un pazzo tutti i giorni. Comunque alla fine sono riuscito a prenderlo. A 160 da Amazon Japan perché sono 145€ il libro con i gadget e 15€ di spedizione. Ho risparmiato 40€ perché ve l'ho detto. Insomma, CD Japan mi chiedeva. 200€. Abbastanza. E di AOT, manco a farlo apposta. Oggi, ecco, Fujin mi ha dato il la per questa cosa. Ma anche Black Bart lo stava citando. Oggi, ragazzi, uscita. Notizia di Pika Edizion. Eccoci. L'Attac de Titan. Edizion Anniversaire. Un Eclin. 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 Uno scrigno. Una scatola. Un Eclin. Colletto. Incluendo le tom. Trenta. 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 Quattro. Non mi ricordo come cazzo si dice. Edizion Anniversaire. Le livret ending. È un mini art book. Base sull'exposition. L'Attac de Titan. De l'ombre a la lumière. All'ombra della luce. Guarda qua. In libreria dal 15 novembre. Praticamente, cioè, bellissimo. Super edizione strafica. Fatta così, col libro dove sopra ci stanno queste illustrazioni che dovrebbero venire dal libro degli Eldiani dove viene raccontata la loro storia. e dentro c'è questo piccolo art book più ending più Attacco dei Giganti volume 34. Chiaramente, è già uscito da una vita, ma questa è semplicemente l'edizione Anniversario per i dieci anni dell'Attacco dei Giganti. Infatti, non so se vi ricordate, ma avevo già fatto vedere l'edizione Anniversario del volume 1 Omnibus di Attack on Titan che in Francia hanno fatto. Bello grosso, ciccione, con dentro le pagine a colori. Stupendo. Ho fatto vedere in un video, come sempre, vi consiglio sempre di andare a controllare il canale YouTube perché lì ci mettiamo il meglio, del 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 meglio, Quindi, andate a controllarlo, sempre, all'edizione, sempre. Libro ending, un mini art book basato sull'esposizione notte e all'ombra della luce. Yes. Da lui l'agenda perpetua. Esatto. Vedi la differenza che c'è tra il trattamento. In Francia, cofanetto che dentro, guarda che figata. Eh, con la fascetta fatto così. Guarda il libro, poi. Questo è uno scrigno contenitore con dentro tutta sta roba. Guarda che figo. Bellissimo. In Italia cosa si fa per l'attacco dei giganti? L'agenda perpetua. Stupendo. Guarda, guarda, veramente. Proprio, proprio, proprio quello che volevo. Guarda, lo desideravo proprio. Ma Odino e Giada che sono tornati tutte e due così in chat, va bene. Lo desideravo proprio, guarda. Ma non c'è nemmeno. Agenda perpetua. Attacco dei giganti. Solo annunciata. Non c'è nemmeno, manca un'immagine, niente. Ancora tutto segreto. Allora, guarda. Forse, immagino che se fanno una cosa decente la fanno simile a questa. Spero che sarà simile a questa. Spero. Ma altrimenti. Sicuramente Panini risponderà con la sua edizione celebrativa. Eh, la sua edizione celebrativa. Boh. Per il momento hanno annunciato soltanto l'agenda perpetua. E, boh, ragazzi, sinceramente. L'altra volta mi hanno pure chiesto. Ma perché, perché lo devi prendere da, perché, perché proprio lo devi prendere da Amazon Japan? Perché lo devi prendere da Amazon Japan? L'artbook dell'attacco dei giganti. Secondo te Panini non lo porterà in Italia? E mi sono proprio spanciato dalle risate. Ma proprio le risate più fragorose che potevo fare. Guarda, cioè, è possibile, certo, è possibile che arriverà in Italia l'artbook dell'attacco dei giganti. Però, tra l'altro, come vi ho già fatto notare, perché questi giapponesi, questi sono stronzi. Questi sono stronzi, veramente. Visto che questo è qua, Shingeki no Kyojin, Fly, Artbook, Tranche A. Questa fottutissima A qua sopra significa che ci sarà una Tranche B e forse anche una Tranche C. E tutte queste Tranche in cui potrai comprare il libro, sicuramente, sicuramente, non conterranno i gadget che ci sono nella Tranche A. E quindi, tu, certo, tutti sti soldi li spendi perché ci sono anche i gadget limitati. Ci sono le stampe dell'ultimo capitolo, c'è la sciarpa di Mikasa, c'è la chiave della cantina di Eren. E quindi è un libro scatolo con molti gadget che in Italia sicuramente non faranno, sicuramente non lo faranno. Potranno fare il libro di illustrazioni? Probabilmente. È possibile, come dicevo, ma sicuro, come la morte, i gadget non ci saranno. Se volete qualcosa che trovi in commercio qui in Francia, scrivetemi in privato, basta che mi date i soldi. Cerbero subito. Ah, scrivimi tu in privato, così mi ricordo di alcune cose. Petrox ha già appena tutto l'alfabeto. No, non ci sta bisogno, dalla A alla Z, però. Perché è l'assistente di Muro, mannaggia, devo comprarlo. Fra, adesso è disponibile su Amazon Japan per l'Italia. Ma anche perché la gente mi metteva fretta, diceva, no, e poi, come si fa? Ma questo è un pre-order. Cioè, loro adesso pigliano i soldi e poi vedono quante stamparne. Quando i soldi eccedono quelli che ci sono voluti per stampare e per fare tutti quei gadget di merda, faranno la tranche B, chiaramente, no? Quindi noi paghiamo pure per voi che lo comprete dopo, però con meno cose. Ma è regolare che è così. È regolare che chi compra prima ha l'inculata più grossa. Costa un reno e mezzo? No, 160. 160 l'euri. Io sono B. Simo G, non ti preoccupare. Tu invece pagherai per quello che facci? Bella, la pagina di Shingeki Fly oggi ha pubblicato un bellissimo post con scritto il significato del titolo di questo artbook, Fly. Negli ultimi 14 anni, Attack on Titan ha unito tanti lettori e lo abbiamo chiamato Fly con la speranza che si continueranno ad aprire le ali verso un futuro insieme con voi. Altri soldi! Altri soldi! Un futuro insieme con voi! Perché un altro manga non lo facciamo! Altri soldi solo sull'attacco dei giganti! Questo ci dovete dare! Aprite le ali, aprite il portafogli! Edizione d'oro? No, però me l'aspetto una Kanzenban alla velocità della luce. Di solito la Kanzenban arriva tipo boh, dieci anni dopo, una decina d'anni dopo. Secondo me anticiperanno un po' i tempi. Potrei reattarlo domani? Potrei! Comunque non è che sono sicuro. Rush Hobbs dice, tanto la Panini comunque non farà nulla. Vabbè, non vi preoccupate, tanto Panini continua a vendere quello economico, volumetto del cazzo, va bene così? E via! Nel frattempo in Francia, wow, edizione super mega fica, incredibile, con lo scrigno, bla 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 bla. Secondo te, come non gestiranno Urasawa a Lucca? Allora, cosa faranno a Lucca per Urasawa? Vieni qua, i primi cento che comprano 74 euro di manga di Urasawa, avranno un biglietto per avere una firma. Poi, durante tutta la giornata, compra altri 74 euro di manga. Se trovi una pallina speciale, avrai uno shikishi, uno al giorno. Questo, questo. Non di più, non di meno. Questo. E se ci fanno avere una firma, è già comunque un miracolo. È già top. E comunque si deve fare la corsa. Cento mi paiono tante. Sì, sì, vabbè, ho detto numero random, eh? Niente, Lucca Comics Dockham Battle. Vabbè, basterebbe fare... Presto. Oh, ragazzi. Qua sono uscite 300.000 novità. Oggi, chiamato video, ha fatto una live di... in meno di 40 minuti, in realtà. Perché poi c'è la sigla, qua stanno iniziando a parlare. In mezz'ora hanno sparato 300 titoli. E ho fatto su, ma nooo! E qua bisogna un attimo capire perché bisogna parlare. E sulla loro pagina c'è il riassunto di tutto. Quindi non dobbiamo guardare la live. Basta che leggiamo il riassunto e via. Easy. Sì, sì, amato impazzuto. Vi posso assicurare che, di novità, vabbè, ci sono i continui di quello che stavano già facendo. più qualche altra cosa nuova e nuovi doppiaggi. Trasmissione di vecchi anime torna pure Kenny Guerrieron, fra l'altro, su Anime Generation. Quindi i vecchi sono tutti contenti. Allora, vediamo un po'. L'estate ormai è finita, inizia una nuova stagione. Novità in simulcast. Elk, Cur 2. Questo super divertente fantasy, molto bello. Dark Gathering, Cur 2. Eminence in the Shadow, un giorno sarò io l'Eminenza Grigia, stagione 2. Protocol Rain, questo è nuovo. Poi nuovi doppiaggi. Tutor Itman Reborn, stagione 3. Dangerous in My Heart, iCard. Cavalieri dello Zodiaco, Senseia, Soul of Gold. Ecco qua, queste sono più le cose che ci interessano. Eccoci qua, ci buttiamo subito a pesce. Gold Saint di Atena, stanno per tornare, vivranno un'inedita avventura nelle fredde terre di Asgard. Moderno spin-off dell'amato franchise di Masa Mikurumada, interamente dedicato ai Cavalieri d'Oro. Frappresso il suo esordio su Anime Generation, direttamente in versione doppiata. Questo praticamente è un anime scam, perché era una pubblicità per vendere i nuovi Meet Cloth, con i Cavalieri dello Zodiaco veri, cioè quelli dello Zodiaco seri, i Cavalieri d'Oro, con le armature Kamui, le armature divine. Quindi hanno un'evoluzione le armature dei Cavalieri d'Oro con il sangue di Atena, diventano più pompate, più grandi proprio, più fiche, e loro diventano più forti, e fanno questa battaglia ad Asgard. Tokyo Mew Mew, questo è il remake però, non è il vecchio. Moderno remake di Tokyo Mew Mew, stato pubblicato in simulcast, ed è ancora disponibile su Anime Generation, e otterrà anche la versione con il doppiaggio italiano. Presto riveleranno anche il cast. Lei l'arma finale, assurdo questo, proprio top, adattamento animato dello studio Gonzo, dell'omonimo manga di Shin Takashi. Farà presto il suo debutto in streaming, direttamente disponibile per la prima volta con doppiaggio italiano. Il cast è stato già rivelato, Eva Padoan, Marco Vivio, Perla Liberatori, Leonardo Graziano, insomma, tante voci vecchie, nuove, molto molto importanti, c'è Iacono, c'è Deborah Magnaghi, Federica De Bortoli, cioè vabbè, qua dentro c'è proprio il classicone. Doppiassero quel capolavoro di Omega, mamma mia, ma magari, magari lo facessero, Fraio, io lo amo, io lo amo, la gente lo odia per qualche motivo, credo, forse perché, boh, è tipo il Dragon Ball Super di Sensei, no? E questo lo rende brutto agli occhi della gente, ma in realtà è bellissimo, è un ottimo sequel di Sensei, molto sensato, soprattutto. Poi, prossimamente, cosa arriva? Concluso la pubblicazione di Uomo Tigre II, è ancora in corso quella di Slayer Nest, e arriverà Slayer's Try, poi, Kenny Guerrier, ecco qua, classico, Abe Nobashi, Angel Art, I Casi del Giovane Kidaichi R, assurdo questo qua, bellissimo, tra l'altro, famosissimo questo in Giappone, da noi, chiaramente, un po' di meno, quasi per nulla se non conosci questo mondo, Il Segreto della Sabbia, I Card, Emma, Victorian Romance, Hen, bizzarro, capiamo, Lupin III, film, Spada Zantetsu, Infuocati, questo già domani è disponibile, ecco qua, sabato 7 ottobre, Lupin III, The Movie, Il Sigillo di Sangue, La Sirena dell'Eternità, questo era uscito in DVD, ma anni fa proprio, me lo ricordo, L'Ultimo Colpo, La Pagina Segreta di Marco Polo, La Principessa della Brezza, Evelyn e la Magia di un Sogno d'Amore, poi, rimasterizzato in HD, Rocky Joe, seconda stagione, Charlotte, anche qua, vabbè, per la prima volta con il richiestissimo doppiaggio storico, che affiancherà il nuovo già presente sul canale, poi, sempre Cavaliere dello Zodiaco, i capitoli di Ate, ok, quindi, si può vedere anche quella merda dei capitoli di Ate, che fanno proprio schifo, tutti i vasi, proprio brutti, 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 ci sono delle puntate brutte dei Cavaliere dello Zodiaco, quelle sono sicuramente i capitoli di Ate, animati, male, male, però ci sono pure tutti i film, La Dea della Discordia, Ardente Scontro degli Dei, Leggenda dei Guerrieri Scarlatti, Ultima Battaglia, Le Porte del Paradiso, il Tenkaien, stupendo, Torna Gold Sigma, versione vintage, R Mastred, Directors Cut, Il Lago dei Cigni, wow, il Lago dei Cigni, top, io godo, Il Lago dei Cigni, anime, stupendo, La Lampada di Aladino, e poi, confermiamo, l'arrivo nei prossimi mesi di, ah, un'altra roba vecchia, proprio, Wolf's Train, Cyborg 009, Capitan Arlock SSX, D'Artagnan e i Moschettieri del Re, più lungometraggio La Storia di Aramis, e questo mi piace, Fiocchi di Cotone per Gianni, Les Miserables, il cuore di Cosette, D'Artagnan, il robot del futuro, che va in combo con D'Artagnan, perché D'Artagnan, se non ve ne siete mai accorti, è letteralmente un moschettiere, come robot, con leone in petto, bellissimo, super divertente pure quello, Capitan Arlock SSX, rotta verso l'infinito, Mazzin Kaiseri 7, O.A.V., Mazzin Kaiseri contro il generale nero, vai, vai, e qua, qua mi gaso, poi, Home Video, invece, spendere soldi, soldi veri, soldi veri, continua la pubblicazione di Lupin, TV Movie Collection, 1992-1994, nuovo box, comprende i tre speciali, Spada Zantetsu, Infuocati, Il Tesoro degli Zars, Viaggio nel Pericolo, in lavorazione, prossimo box, che è 2011-2013, da proprio gli anni che saltano, con i tre film inediti in un video, Il Sigilo di Sangue e la Serena dell'Eternità, La Pagina Segreta di Marco Polo, La Principessa della Brezza. In occasione del prossimo Lucca Comics, vedrà anche il debutto in un video, la serie fantasy, targata Madhouse Overlord. E vabbè, finalmente Overlord da comprare, per tutti i fan di Overlord, ci sta, anche perché è tanta roba. Ottimo, sono contento. Prima stagione in Blu-ray, incluso lo spin-off, Ple Ple Pleiadi, doppiato e sottoritolato, il materiale video utilizzato per questo Blu-ray box, è la versione retake giapponese, rilasciata per le lezioni a un video. Tutto però sprodotto in italiano, ok, perfetto. Stiamo lavorando anche le lezioni definitive in Blu-ray, in uscita nei prossimi mesi del 2024. Questi erano stati già annunciati, ma per qualche motivo sono stati tutti ritardati, forse perché mancano delle approvazioni. Infatti io li stavo aspettando, e invece niente. Rocky Joe, seconda stagione, dove ci sta Shinguaraki, top. Lady Oscar, dove ci sta Shinguaraki, top. Cavalieri dello Zodio, dove ci sta Shinguaraki, top. Sampei, ragazzo pescatore, dal 6 dicembre, invece questo, che saranno per la prima volta in versione integrale, condoppiate le parti mancanti. Vabbè, secondo me qua sarebbe stato meglio fare completamente un ridoppiaggio. Però, vabbè, vabbè. Sono comunque molto curioso di prendere Rocky Joe 2, Lady Oscar, e i Cavalieri dello Zodiaco. Queste qua, tutte e tre le prenderò. Poi, saranno ristampati i Blu-ray di Berserk, e, Waiu, qua c'è una bomba, c'è una bomba, che voi non avete manco idea. Ma dal nulla, dal nulla, così l'hanno detto, dal nulla. Ristampati i Blu-ray di Berserk, e Paranoia Agent. E ok, va bene. Blu-ray di Berserk è la serie TV, Shimpudenki Berserk, quella del 97. Paranoia Agent, penso l'abbiate vista, serie TV di Satoshi Kon, veramente la fine del mondo. Previsti per il 2024, Waiu, io non ci potevo credere, non ci posso credere. Previsti per il 2024, i lungometraggi cinematografici. Lupin the Movie, La Pietra della Saggezza. Classicone, film di Lupin, uno dei film migliori, di Lupin, che abbiamo visto, è praticamente il film d'animazione, il primo, quello del 1978, diretto da Soji Yoshikawa. Questo l'abbiamo visto insieme, l'abbiamo commentato, è un film incredibile, è quello dove c'è Mamo, bellissimo. Annunciato anche Royal Space Force, Le ali di Honeamise. Ragazzi, non ci posso credere, uno dei film più costosi del Giappone, che è stato un flop in Patria, non l'ha visto nessuno, è costato l'ira di Dio. Qua dentro ci sta tutta la gente che poi andrà a fare studio Gainax, e tirarono fuori un film bellissimo, introspettivo, con tanta voglia di raccontare la passione dell'uomo per la ricerca dello spazio, del volo, della fantascienza. meraviglioso, 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 e poi Recycle o Penguin Drum, troppo bello, troppo bello. Parte 1 e parte 2, e ragazzi, Perfect Blue, Perfect Blue, in UHD 4K, torna Perfect Blue, bellissimo. Io sono in pace. Perfect Blue, il film più bello di Satoshi Kon, il film più bello di sempre. Adoro. Me ne compro 6 copie, Kirio, per lucrare un pochettino. Per la prima volta in Italia, in Blu-ray, perché l'unica cosa che abbiamo avuto sono stata la videocassetta di 100 anni fa, il DVD di 200 anni fa, e poi basta. Nel tempo è stato chiesto a Cavazzoni di D-Nit se per loro fosse stato il caso di comprare Perfect Blue, e disse no, no, noi Perfect Blue non lo compriamo perché è un suicidio, costa troppo, non ci rientreremo con i soldi, noi non lo facciamo. E poi, quindi Yamato più forte di D-Nit a questo punto ammissione di colpa. D-Nit inferiore a Yamato Video, godo due volte? Per forza, perché se dici questa stronzata poi dopo ti devi prendere anche la responsabilità che se lo fa qualcun altro tu sei inferiore a quello, punto e basta. D-Nit inferiore a Yamato Video ed è una verità e basta. E poi, ancora non sono finite le notizie, Yamato Animation raddoppia ad affiancare il canale tematico su Samsung TV è disponibile un secondo canale interamente dedicato a Yu Yu Akusho, completamente dedicato a Yu degli Spettri. iconica serie del maestro Tokashi viene trasmessa quotidianamente in maratone. Top! Infine, Yamato Edizioni presenterà durante Luca Comics & Games un nuovo libro dedicato a Lady Oscar e siamo certi che vi sorprenderà. Va bene, io avevo già comprato il loro libro precedente bellissimo sull'animazione di Lady Oscar, ci sono dentro tanti settei, tanti bellissimi disegni preparatori, le sell, stupendo. Bellissimo, bellissimo. comunque, penso che per fare un canale dedicato solo a Yu degli Spettri vuol dire che la gente lo vuole vedere. Direi, sì, H24, Yu degli Spettri, vabbè, posso capire che a noi sembra un po' esagerato, però si vede che è una cosa che traina, che la gente vuole guardare. Sì, 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 anch'io sono d'accordo che Yu degli Spettri è il Dragon Ball di Tokashi, assolutamente. Seghino su Senzui, il più forte. Ma Yu, Senzui è veramente il più forte che poi muore come uno stronzo. Comunque, quanti episodi sono la serie TV? Sono un centinaio, sono un centinaio. Gli Amato Video sfrega le mani. Sì, sì, stavo facendo proprio così. Tokuro minore. Ma la Perfect Yu è ancora non disponibile per star e devi dire ciao, addio, devi dire. Non aspettatevi mai niente, ragazzi, fate come me, così quando arriva qualcosa sarete contenti. e non aspettatevi. Sì,